e impegnarci per la ripartenza, una ripartenza che in questo momento passa anche per il turismo ma passa per le riaperture in generale, siamo tutti d'accordo che il coprifuoco debba essere superato stiamo lavorando per superarlo il prima possibile e così la campagna di vaccinazione che finalmente ha segnato le 500.000 dosi al giorno ed è un altro segnale di speranza nessun falso entusiasmo ma tanto lavoro per ripartire il prima possibile